La notte scorsa a Pozzallo un nuovo furto con spaccata, questa volta ai danni di una gioielleria. Un colpo fulminio, danni per 10.000 euro e il sindaco dichiara adesso è troppo, servono i risultati. Giovane rapinatore arrestato dalla polizia ieri pomeriggio a Comiso aveva chiesto la consegna di 5.000 euro al titolare di una rivendita tabacchi, minacciando di far saltare tutto in aria. Giorni intensi di campagna elettorale nei comuni in cui si andrà a votare a giugno. Ieri convention a Ragusa del candidato Peppe Calabrese ad Acate, Raffo decide di non ripresentarsi. Presentato a Modica un sito dedicato alle memorie orali negli Iblei, frutto del lavoro della scrittrice e antropologa Marcella Burderi. A San Pietro Burgo in Russia lo scorso fine settimana la squadra di Fioretto Maschili ha conquistato la medaglia d'argento con Avola, Garozzo, Focconi e Cassarà. Un saluto ai nostri telespettatori, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale che come avete sentito i titoli apriamo con la pagina di Cronaca. Una città sotto assedio. E questa la sensazione di cittadini e commercianti di Pozzallo dopo l'ultimo furto con la spaccata la scorsa notte ai danni della gioielleria Roccasalvo di Corso Vittorio Veneto. E ci è chi ipotizza le ronde contro l'emergenza criminalità. Sentiamo tutti i dettagli dal servizio. Ancora una notte da incubo a Pozzallo dove continuano i furti con spaccata. L'ultimo colpo è stato messo a segno poco prima dell'alba ai danni della gioielleria di Pinuccio Roccasalvo nel centralissimo Corso Vittorio Veneto. Il bottino ammonta a circa 10.000 euro. I malviventi hanno arraffato alcuni monili esposti nella vetrina prima di fuggire. Dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia di Modica, la banda della spaccata avrebbe usato come ariete una berlina di colore grigio metallizzato. I militari dell'arma, coordinati dal capitano Francesco Ferrante, stanno ora esaminando le immagini di una telecamera di sorveglianza che insieme ad alcune testimonianze potrebbero dare una svolta decisiva alle investigazioni. I carabinieri, dopo gli ultimi furti con spaccata, hanno intensificato i controlli e i pattugliamenti, ma il territorio da sorvegliare è abbastanza vasto e servirebbero, come chiedono i cittadini, più uomini e più mezzi. Ieri, tra l'altro, sull'emergenza furti a Pozzallo si era tenuto un vertice in prefettura. Il furto con spaccata della scorsa notte sembra essere quasi una sfida della criminalità alla comunità pozzallese. E il sindaco, Roberto Ammatuna, chiede risposte concrete all'emergenza. Penso che l'asticella si sia alzata un po' troppo. La nostra pazienza sta per finire e penso che il periodo degli impegni formali è finito. I pozzallesi attendono solo delle risposte concrete. Le risposte concrete essenzialmente possono essere due. La prima risposta è quella di assicurare alla giustizia subito e senza perdere tempo i responsabili di queste bandi criminali che terrorizzano cittadini, quindi abitazioni, civili e attività commerciali. In un secondo momento, la seconda risposta è quella di avere un maggior numero di forze dell'ordine nel territorio perché è la premessa indispensabile per fare una politica di prevenzione nella comunità pozzallese. Non vorrei che si consolidasse la cultura degli alebi. I cittadini di Pozzallo collaborano nella maniera migliore possibile. Ma quando un fatto come quello è accaduto questa notte, in cui nel giro di pochi minuti, con delle attrezzature formidabili, riescono a rompere una serranda metallica e con la macchina poi rompono i vedri quasi infrangibili di una gioielleria, nel giro di 3-4 minuti i cittadini hanno avvisato subito i carabinieri. Nel giro di 3-4 minuti io non so cosa potremmo fare ancora di più. Sull'episodio si registra anche una dura presa di posizione della Confcommercio Provinciale di Ragusa. La città di Pozzallo è sotto assedio, afferma il presidente Gianluca Manenti. I commercianti non possono più dormire sonni tranquilli. Manenti, nella sua nota, ipotizza anche il ricorso alle ronde notturne per garantire un livello di sicurezza e di vivibilità alla città. E sempre Pozzallo, lo scorso fine settimana era stato teatro di un altro fatto di cronaca. Due tunisini di 28 e 21 anni avevano creato disordini all'interno di un bar. Armati di coltello e di bastone avevano prima minacciato il titolare e poi avevano anche rubato alcune bottiglie di alcolici e danneggiato il locale. La Guardia di Finanza, dopo un breve inseguimento, li ha bloccati e disarmati. Il magistrato di turno ha disposto l'arresto e li ha rinchiusi presso la casa circondariale di Ragusa per reati di resistenza pubblico ufficiale, rissa, furto, danneggiamento e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. E adesso lasciamo per il momento la cronaca e parliamo di politica, politica dedicata alle amministrative a Ragusa. Ieri convention del candidato sindaco Peppe Calabrese, alla presenza dell'onorevole Nello Di Pasquale e del presidente del gruppo PD a Lars, Giuseppe Lupo. All'insegna dell'hashtag Noi Ci Saremo, il candidato a sindaco di Ragusa, Peppe Calabrese, ha presentato la sua candidatura a Poggio del Sole Resort. Erano presenti i candidati al Consiglio Comunale delle cinque liste che sostengono Peppe Calabrese, PD, Territorio, Pericentro, Ragusiamo e Io Resto Qui. Calabrese nel suo intervento ha evidenziato il coinvolgimento dei giovani nel suo programma e ha puntato l'attenzione su due punti fondamentali, la valorizzazione e il rilancio di Marina di Ragusa. Poi si è rivolto ai cittadini. Abbiamo le idee chiare, noi facciamo politica da sempre, nel senso io sono stato eletto nel 2003, quando fu sindaco Tonino Solarino, da 15 anni ci sono dentro, la politica la faccio 365 giorni l'anno, anche quando non ci sono le elezioni. Non mi piacciono le cose inventate, come qualcuno sta facendo. La novità l'abbiamo già provata, il ragusano ha già provato cosa vuol dire inventarsi un sindaco. Ora qualcun altro viene qui a riproporsi inventandosi sindaco, credo che stavolta i ragusani avranno la consapevolezza e la responsabilità di scegliere un sindaco che possa dare un cambio diverso a una città che merita molto. Alla convention erano presenti anche il presidente del gruppo parlamentare all'Ars, Giuseppe Lupo, e il deputato regionale, Nello Di Pasquale. Uno dei punti fermi della sua candidatura riguarda Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, quindi sarebbe la parte diciamo antica e anche la parte marittima appena di giovani. Lei che cosa pensa di questi punti? Penso che sono davvero due tesori da valorizzare. Ragusa Ibla sicuramente è una delle perle straordinarie della nostra Sicilia e anche per questo, anche in occasione dell'ultima legge di stabilità, dell'ultima legge finanziaria, l'onorevole Di Pasquale insieme al gruppo del Partito Democratico che ho l'onore di presiedere si è prodigato affinché potesse essere rifinanziata la legge appunto per valorizzare ulteriormente Ragusa Ibla. E da Ragusa Ibla è possibile spostarsi nel giro di pochi minuti a Marina di Ragusa, un'altra parte della splendida Ragusa che ha una vocazione in questo caso che guarda al mare straordinaria e allora poter coniugare turismo culturale col turismo balneare, un turismo che a Ragusa si può fare 12 mesi l'anno è davvero una straordinaria fortuna per una città che merita di essere governata bene da un bravo sindaco. Io sono sicuro che Peppe Calabrese sarà un bravo sindaco. Peppe Calabrese ha preparato insieme agli alleati, sono 5 liste, 4 insieme al Partito Democratico che raccolgono quelle che sono le istanze e quelle che sono le idee che vogliono portare avanti per i prossimi 5 anni. Un programma ricco che parte da Ragusa, passa per le periferie, ritorna al centro, ritorna a Ibla, ripassa a Marina, cioè non hanno lasciato niente, davvero un programma ricchissimo ma al di là dei programmi io penso che la cosa importante per la città, per una città, per tutte le comunità è che chi va a fare il sindaco deve avere le caratteristiche per poterlo fare. Chi fa il sindaco deve avere l'esperienza amministrativa, deve conoscere il comune e chi fa il sindaco deve avere anche il carattere. Il carattere è fondamentale. Io penso che Peppe Calabrese ha una squadra, ha un programma ma ha tutte le caratteristiche per poter fare il sindaco di Ragusa e per questo centinaia di persone oggi sono venute qui per poter aprire questa campagna elettorale. Il 10 giugno si vota anche a Dacate per l'elezione del sindaco e del rinnovo del Consiglio Comunale. Sono tre i candidati alla poltrona di primo cittadino. Si tratta di Giovanni Di Natale, sostenuto da una coalizione civica, Giovanni Fracanzino, anche gli appoggiato da liste civiche, e Vito Cultrera che si presenta come candidato del Movimento 5 Stelle. Secondo quelle che sono le ultime dichiarazioni ufficiali, non si presenta in questa tornata elettorale il sindaco uscente Franco Raffo, a meno di sorprese dell'ultimora che potrebbero essere ufficializzate dallo stesso Raffo nelle prossime ore. Il candidato a sindaco del centrodestra a Modica è invece il giovane veterinario Gabriele Amore che nel suo programma propone una serie di interventi destinati a arrivare alla città, quel ruolo comprensoriale che in questi ultimi tempi sembra avere perso. Sentiamo. Gabriele Amore è il candidato a sindaco del centrodestra a Modica. Quali sono i principali punti del programma presentato agli elettori? E' lo stesso Amore ad illustrarli. I punti del programma rispecchiano innanzitutto il bilancio, lo studio del bilancio, siamo in una emergenza assoluta per quanto riguarda la città di Modica, a differenza di quello che vuole far credere l'amministrazione uscente, dobbiamo assolutamente studiare il bilancio ed evitare il più possibile la prospettiva del dissesto finanziario perché sarebbe un problema per tutta la città. Per quanto riguarda il Tribunale è assolutamente un'ingiustizia per la città di Modica, quindi dobbiamo assolutamente ripristinare i tempi anche della giustizia e avere un Tribunale abbandonato senza poter essere utilizzato diventa un problema per tutta la comunità, non solo di Modica ma anche delle città vicine. Non è possibile che un Tribunale che è di proprietà del Ministero della Giustizia e sotto la gestione del Comune non possa essere utilizzato, quindi bisogna assolutamente ritornare a riproporre quegli spazi che sono gli spazi necessari per il funzionamento della giustizia. Un altro punto importante è certamente la questione dell'ospedale, è vero c'è stata un'apertura di nuovi locali per quanto riguarda il pronto soccorso ma la critica che viene mossa è stata quella di aver fatto un vero e proprio spot elettorale da parte dell'amministrazione uscente anche perché l'ospedale è stato aperto senza la presenza del personale che serve a gestire l'apertura del nuovo pronto soccorso, quindi è solo uno specchio per la lode, possiamo dire, una vetrina elettorale che lascia il tempo che trova, tant'è che c'è stata anche la critica da parte del direttore dell'ospedale. Altri punti importanti sono la questione dell'immigrazione assolutamente da controllare a Modica, ormai c'è un'insofferenza crescente per quanto riguarda la città e il sindaco eletto del centrodestra dirà di no al prefetto di Dacusa se dovessero esserci ulteriori richieste per quanto riguarda l'ingresso di immigrati clandestini nella città. E torniamo adesso alla cronaca, ci sarebbe il vizio del gioco alla base del gesto compiuto ieri pomeriggio a Commiso da un giovanissimo malvivente che prima ha tentato di rapinare una tabaccheria e poi ha minacciato di farla saltare in aria. Il giovane è stato arrestato dalla polizia. Minaccia il titolare di una tabaccheria e gli chiede la consegna di 5.000 euro, poi a seguito del diniego ritorna alla carica dopo pochi minuti con una bombola di gas in mano ed un accendino, minacciando di far saltare tutto in aria. E' successo ieri pomeriggio in una tabaccheria di Commiso, protagonista a un giovane vittoriese, Giuseppe Di Stefano, 22 anni. La polizia di Stato e la squadra mobile e commissariato di Commiso lo ha arrestato con l'accusa di tentata rapina aggravata dall'uso di armi. Erano le 15.30 quando il giovane si avvicina al titolare di una tabaccheria e dalla sua fidanzata che stavano per aprire la saracinesca e chiedere la consegna di 5.000 euro e stecche di sigarette. Il titolare si rifiuta di consegnare quanto richiesto, chiama la polizia, nel frattempo Di Stefano si allontana ma dopo pochi minuti fa ritorno con una bombola di gas in mano ed un accendino nell'altra, posiziona la bombola proprio davanti la porta e chiede soldi minacciando di far esplodere tutto. Coraggiosamente la donna spintona il rapinatore per scappare ma il malvivente la afferra per il collo e la strattona facendola cadere a terra. Il fidanzato mette in fuga il malvivente che nel frattempo al suono delle sirene che stavano per arrivare tenta la fuga. La polizia di Stato fa convergere sul posto non solo la volante ma anche la squadra mobile in un servizio antirapina. Una volta giunti sul posto il malfattore si era già allontanato ma da una visione immediata dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori della squadra mobile riconoscevano Di Stefano e si recavano presso la sua abitazione. Di Stefano veniva sorpreso nella sua stanza mentre si cambiava di abiti. Condotto presso gli uffici della squadra mobile di Ragusa il giovane ha ammesso ogni responsabilità e ha detto di aver chiesto quei soldi perché affetto dall'utopatia. Dopo gli accertamenti di rito da parte della polizia scientifica il giovane è stato associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione della procura della Repubblica eblea. La strada lungo la scogliera che collega Punta Regilione a Maganucco innesca una polemica in relazione alla sua sistemazione in un periodo di campagna elettorale. Botta e risposta tra Maurizio Illagio di Fratelli d'Italia e l'assessore alla viabilità del comune di Modica Salvatore Lorefice. Sentiamo. La sistemazione della strada che da Punta Regilione conduce a Maganucco in un periodo preelettorale ha fatto scattare la protesta di Maurizio Villagio candidato al Consiglio Comunale di Modica con Fratelli d'Italia. Villagio chiede le dimissioni dell'assessore Salvatore Lorefice che ha seguito i lavori e che avrebbe scavalcato in questa occasione l'assessore ai lavori pubblici Giorgio Linguanti. Le chiediamo perché la notizia si commenta da sola. L'assessore alla Polizia Municipale si è disinteressato di quella zona per cinque anni, guarda caso coincidenza vuole che fra un mese si voti e l'assessore interviene asfaltando due chilometri di strada. A noi ci sembra un uso spregiudicato e un po' disinvolto dei soldi dei contribuenti. Poi ci stranizza anche il fatto che non è neanche una delega dell'assessore Lorefice, ci risulta che sia del vice sindaco Linguanti. Il sindaco abbia almeno un minimo di autorevolezza in queste cose, non vogliamo che questa campagna elettorale si trasformi in un far west elettoralistico, tra i suoi consiglieri e i suoi assessori, ognuno resti al suo posto, spenda i denari pubblici in maniera intelligente. Diamoci tutti una calmata e penso che il sindaco, un intervento con una tirata d'orecchia a livello politico al suo assessore sia domerosa. La strada è stata rifatta e quindi penso che non dovrebbe lavendare nessuno. Innanzitutto posso dire anche che era stata già programmata nell'estate scorsa, ma che era stata sospesa perché c'erano già dei residenti in loco e quindi creavamo problemi. Ora abbiamo ottenuto di nuovo l'autorizzazione della capalleria di Porto e quindi è stata fatta dopo che è stata rilasciata l'autorizzazione della capalleria di Porto. Perché sono stati seguiti da lei, dicono, i lavori e non da linguaggio? Ma che cosa gli interessa? Tutti gli assessori sono uguali e tutti lavorano per la stessa amministrazione. Quindi oltretutto sono anche assessori alle loro abilità e penso che li posso seguire, ma ho seguito quelli e ne ho seguito tanti altri e continuerò a seguirli. Quindi un'altra polemica sterile su questa cosa. Torniamo in studio con una pagina dedicata alla cultura. l'antropologa Marcella Burderi, che in tanti anni ha raccolto testimonianze narrate da protagonisti di storie vissute, dai ricordi legati alla guerra, ma anche alle dicerie e ai racconti, alle memorie di anziani e anziane che hanno testimoniato con le immagini girate in diversi luoghi della provincia. La presentazione dell'evento è stata affidata al professor Uccio Barona, presidente della fondazione e anche intervenuto il curatore del sito, Filippo Galati. Nel sito sono presenti le tante testimonianze nelle loro versioni integrale, oltre a commenti ed apprezzamenti vari. L'autore ci propone di offrire uno spazio dove tutti possono contribuire ad arricchire il già prezioso patrimonio culturale presente. notevole l'afflusso di pubblico che ha ascoltato con attenzione i vari interventi. Da più parti sono arrivati all'autrice parole di apprezzamento per questa bella iniziativa. L'evento, come consuetudine, si è concluso con un rinfresco con prodotti tipici del territorio. E adesso parliamo di sport scherma a San Pietroburgo. Lo scorso fine settimana la squadra di Fioretto Maschile ha conquistato la medaglia d'argento con Avola, Garozzo, Foconi e Cassarà. Il team italiano si è reso in finale agli Stati Uniti alla palarizza di Modica negli stessi giorni. Si è svolta la terza prova regionale Under 14 e la seconda prova regionale Paralimpica. Il servizio. È stato un weekend particolarmente intenso per la cona di scherma Modica, impegnata contemporaneamente su due fronti. A San Pietroburgo in Russia, a rappresentare con la nazionale italiana la città della Contea, Giorgio Avola è il maestro migliore. Il campione modicano, assieme ai compagni di squadra Garozzo, Foconi e Cassarà, ha portato a casa una medaglia d'argento nella gara a squadre. Il team italiano, campione del mondo in carica, si è reso in finale agli Stati Uniti che hanno vinto con il punteggio di 45 a 25. Negli stessi giorni Modica ha ospitato la scherma siciliana con l'organizzazione della terza prova regionale Under 14 e la seconda prova regionale Paralimpica. Una grande festa sportiva che ha visto oltre 300 giovani atleti di tutte le province siciliane invadere il palarizza di Modicalta assieme alle famiglie per le intere giornate di sabato e domenica. Successo anche agonistico sulle pedane per i giovanissimi atleti modicani con le vittorie di Elvira Sigona nelle giovanissime Fioretto e Francesco Spampinato nei ragazzi allievi Fioretto. Sigona e Spampinato assieme a Giulia Floridia nelle allievi Fioretto si sono anche laureati i campioni regionali per il 2018 nelle rispettive categorie. Assieme a loro ottimi i secondi posti di Marco Palermo, Giada Fiore e Matteo Benedetto. Inoltre sul gradino più basso del podio nelle rispettive gare anche Mattia Pitino, Alanis Inserra, Carlotta Spadaro, Serena Genovese e Leonardo Aprile. Contemporaneamente al Palarizza si è svolta la seconda tappa del campionato regionale paralimpico in carrozzina Trofeo Conad che come per gli Under 14 ha assegnato i titoli regionali delle rispettive categorie. L'attività paralimpica in carrozzina nata a Modica pochi anni fa ha avuto un progressivo sviluppo di cui si cominciano a raccogliere i frutti dei risultati agonistici. Tra questi le due vittorie di tappa e contemporaneamente due titoli regionali per la scherma modica con gli atleti paralimpici Giuseppe Terranova nella categoria B Spada e Leonardo Napolitano nella categoria C Spada. E adesso prima di chiudere c'è ancora una notizia di servizio che riguarda i cittadini di Modica. A partire da domani, mercoledì 9 maggio, la via Vittorio Veneto a Modica sarà interessata dai lavori di rifacimento del manto stradale. Dalle 8 e fino alla conclusione dei lavori la via Vittorio Veneto sarà chiusa al traffico veicolare e vigerà il diritto di sosta con rimozione forzata. In contemporanea sarà in vigore il doppio senso di circolazione in Viale Medaglie d'Oro con imbocco per via Vittorio Veneto in via Gallo accanto al palazzo Ex-Inam. I lavori, secondo quanto assicurano dal Comune, dovrebbero concludersi entro un paio di giorni. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie dell'attenzione prestata e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti.